Sicuramente lavorato in condizioni difficili, non solo per l'attenzione ma proprio perché tecnicamente effettivamente non era facile, soprattutto per qualche piatto di frittura, essere presente. Io al momento non so chi è il vincitore, lo faccio a programmare? Ok, allora passo la parola a Telia, grazie. Adesso proseguiamo l'attestato a tutti i partecipanti, chiaramente c'è il finalista e il classificato non c'è ancora. Smole Bacchiororo, grazie. Marco Lentino Danilo Benato Benato No, no, io e Luca Eh, insieme, ok. Però chiamiamo Pippo Montella che è qui perché consegnerà il uno dei premi. Vogliamo portarlo lì al centro che dice che c'è il tavolo con tutto? Sì Allora, tu è il chef, Antonio, Antonio, il tavolo? Direttamente, allora, ragazzi, ragazzi, volete aiutare? Consegna, dove è Pippo? Consegna il secondo classificato, Franco, Manna e Luciano Pignataro consegneranno allo chef vincitore e io premierò il terzo classificato, quindi passo a Francesca. Allora, innanzitutto, vorrei dire che, dato che le partecipazioni sono... Perdonami, vi do Paolo Gramaglio per sorridere, ma lo sai che ognuno di voi dei Bacchioria dovrà regalare qualcosa a Luciano Pignataro del Presidente. Tu devi regalare una cena a tutti i venerdì e tutti i sabbato a Luciano Pignataro e con questo pensi che si fa un'unità. E' meglio acce fare un vestito. Allora, io volevo dire una cosa, ragazzi, io ho i nominativi, diciamo, di tutti, di una della classifica, eccetera, mi sento di dire che qua sono tutti vincitori, perché le partecipazioni sono state numerose, voi già siete arrivati qui, quindi questa è una premessa, secondo me, doverosa. Le differenze tra gli uni e gli altri sono veramente minime, quindi vuol dire che il livello di tutti voi è alto ed è molto simile, quindi è giusto per una manciata di soggettività, non siete arrivati tutti ex seco al primo posto. Bene, su questa premessa vorrei dare... Non fare nulla! Si sento! Allora, il prezzo premio lo consegna lei a Mattia, con Antonio Sorrentino, che ricordo l'esercizio di scelto del gruppo Rosso Pomodoro, a Baudo... Salvatore Baudo è il terzo classificato, facciamo un applauso al Salvatore! Adesso c'è Pippo Montella, che consiglierà al secondo classificato, che è Pasquale di tutti loro, bravo! 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 Passo il microfono ai due presidenti. Il vincitore è La La Land. Il vincitore è Demian. Il vincitore è La La Land. 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 Il vincitore è La Land. Il vincitore è La La Land.